La ricerca che sto svolgendo ricostruisce le vicende attorno a uno tra le centinaia di luoghi di internamento e prigionia fascista in Italia. E' un luogo che però si converte in un epicentro di solidarietà, di solidarietà comunitaria, di resistenza civile e di lotta partigiana trasnazionale. Si tratta del campo 43 di Garessio, nell'Alta Valtanaro, nel Basso Piemonte, che tra l'ottobre 1942 e il settembre 1943 conteneva circa 400 prigionieri di guerra dell'esercito monarchico jugoslavo. Dopo l'armistizio dell'8 settembre i prigionieri riuscivano a fuggire, aiutati dal comando dell'ormai ex campo e soprattutto sostenuti dalla popolazione civile della zona, che permise loro di mettersi in salvo, evitando così la cattura e la conseguente probabile deportazione da parte delle forze naziste tedesche. Emergono decine di biografie, di percorsi solidali, di attività, di azioni e spiccano le figure di numerose donne, che dunque si esposero a enormi rischi, rischi di rastrellamenti delle forze nazifasciste o di delazioni dei concittadini. In un quadro simile a quelli che vediamo in altre parti d'Italia, l'aiuto ai prigionieri di Garessio si contraddistingue dunque come una forma di resistenza civile, quel numero di mobilitazioni spontanee, senza armi, non ideologizzate, ma che comunque espressero un rifiuto ed esercitarono un ostacolo attivo alla struttura di dominio nazifascista. E' dunque importante, sia per la ricerca storica che per la memoria pubblica, ricordare l'importanza e la dignità storica e civile di questi contributi, così come è importante recuperare il contributo dei partigiani stranieri alla resistenza italiana. E questo elemento transnazionale della resistenza è infatti un aspetto talvolta poco ricordato e sottovalutato e su cui molto resta da accertare e da scrivere. E la ricerca dunque ricostruisce i percorsi dei più di 30 ex prigionieri jugoslavi che parteciparono alla resistenza in formazioni piemontesi e liguri, seguendo una molteplicità di motivazioni morali, ideali, esistenziali e razionali. Infine questa ricerca indaga l'eredità delle vicende del Campo 43 nel dopoguerra. Un'eredità difficile da mantenere per tanti motivi, sia da parte jugoslava che da parte italiana, per via dei complessi rapporti reciproci e della situazione geopolitica, nonché delle rigidità delle rispettive memorie ufficiali e istituzionali che non sempre furono disponibili a trovare una collocazione adatta a questa vicenda. E tuttavia è significativo il mantenimento per decenni di relazioni spontanee tra individui, famiglie, associazioni, entità locali, tra Valtanore e Jugoslavia, attraverso corrispondenze, viaggi, reti di amicizie, visite reciproche. È un patrimonio di relazioni internazionali dal basso che ha davvero attraversato tante contraddizioni, tante vicissitudini del Novecento ed è una delle tante eredità vive, materiali e immateriali, lasciata dalla resistenza, resistenza civile, partigiana e transnazionale. Un'eredità che va recuperata e custodita. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS